Benvenuti e ben ritrovati a Fritz Talk. È un piacere avervi qua, sono Pierpaolo Gelmi. Sono Alessandro Guardini. E oggi siamo qua per parlare di Mesh e Wi-Fi 6, giusto? Corretto. Sono sicuramente tecnologie che fanno la differenza, tecnologie molto richieste tra l'altro. Sì, perché le nostre case si arricchiscono di sempre più dispositivi. Sempre più dispositivi connessi, sempre più esigenze, perché anche l'esigenza di una rete domestica in casa o anche, per esempio, in ufficio, è letteralmente cambiata nell'ultimo periodo. Si è rivoluzionata. Quali sono a questo punto, Alessandro, le esigenze di una rete domestica attuale? Allora, se pensiamo ad una rete come era due anni fa e come oggi, si trattano di due reti completamente differenti. Proviamo a pensare, se una volta connettevamo alla rete soltanto i nostri telefoni, quindi se io sono a casa da solo avrò avuto il mio telefono collegato, forse il mio tablet, dopo questi due anni il mondo è cambiato completamente. Quindi io a casa ho collegato il PC che utilizzo per il lavoro, per fare smart working, ho collegato gli interruttori per la domotica, per le tapparelle, in maniera che le piante non mi muoiono. Poi c'è la lavatrice, il condizionatore, l'assistente vocale, la console, perché gioco in cloud, e c'è anche lo streaming, che magari c'era anche prima. Sì, ma non così. Sì, non in questa maniera. Quindi la rete è diventata colma di dispositivi che richiedono una grande capacità di banda, devono connettersi sempre in maniera performante per non darci alcun tipo di problema durante la giornata, che ci stiamo divertendo, che stiamo lavorando, dobbiamo essere sempre connessi nella maniera migliore. E in ultima, la rete ideale deve essere capace di bilanciare tutte queste esigenze e di dare la priorità a quelli che sono i flussi veramente importanti in base a quello che è il momento della giornata. E pensa che mi stai parlando di dispositivi connessi da solo. Immaginati una casa con più abitanti, 4 persone, 5 persone, con tutti i loro dispositivi connessi. A questo punto c'è un'esigenza molto importante di rete. E qua viene in aiuto la nostra rete Mesh e anche il Wi-Fi 6, tutti i nostri prodotti con il Wi-Fi 6. Alessandro, fantastico! Le esigenze sono cambiate e noi abbiamo la soluzione, che è la rete Mesh. Che cos'è la rete Mesh di AWM? Allora, la rete Mesh. Partiamo però dalla rete estesa. Quindi ho un modem ed un repeater, li accoppio l'uno all'altro, magari vado a cambiare anche il nome della rete, vado a cambiare la password, in maniera che sia tutto più uniforme. Però, quando mi sposto dalla cucina al giardino ed ho quel momento in cui sono di mezzo tra il modem ed il repeater, posso avere una disconnessione. Quindi, la chiamata di lavoro che stavo facendo, che era assolutamente essenziale, mi casca. Bene, con la rete Mesh, invece, questa situazione cambia completamente. Perché io avrò il mio Fritzbox, avrò il mio Fritz Repeater o Powerline, saranno entrambi all'interno di un'unica rete, con un'unica password e un unico centro di gestione. In maniera che, quando di nuovo ripartirò dalla cucina, ma magari con la console in mano e andrò verso il giardino, non avrò nessuna disconnessione e riuscirò a giocare la mia partita tranquillamente. Questo è ciò che il Mesh può fare e lo può fare con Fritz, perché noi integramo tutti quelli che sono i dispositivi a scaffale all'interno di una rete Mesh, senza distinzione tra Repeater, Powerline o addirittura altri box che possono essere utilizzati per questo tipo di rete. Credo che tra l'altro sia semplice da configurare questa rete Mesh, corretto? Corretto. Vuoi che andiamo a farlo, Pierpaolo? Dio, possiamo vedere. Andiamo a farlo, sì. Tra l'altro abbiamo qua il 7590X e il 1200X, due prodotti in Wi-Fi 6, tra l'altro una combo micidiale. Eccezionale, assolutamente. Andiamo a vedere come creare questa rete Mesh. Tra l'altro nel frattempo che la creo in modo semplice e veloce, tu controlla sul Fritz OS per vedere che tutto si connetta in modo corretto. Adesso vedo solo il Fritzbox, Pierpaolo. Mi basta semplicemente andare a collegare alla rete elettrica il 1200AX, premere sul Fritzbox il tasto Connect VPS e premere sul Fritz Repeater il tasto Connect. Cosa succederà? Tutti i dati che sono all'interno e tutte le impostazioni che sono all'interno del Fritzbox passeranno magicamente qua. E di fatti ecco che magicamente si è connesso anche il Fritz Repeater. Fantastico. Ok Pierpaolo, quali sono le caratteristiche che sono comuni all'intera gamma? Ce le puoi raccontare? Le caratteristiche comuni all'intera gamma sono l'ecosistema, perché facciamo l'hardware, facciamo il software, questo per garantire il massimo della semplicità e il massimo della comodità nell'installare tutti i nostri prodotti e anche in questo caso la rete Mesh. Pensa Alessandro che abbiamo 5 anni di garanzia sui nostri prodotti, produciamo i nostri prodotti direttamente in Europa, quindi li sviluppiamo e li produciamo direttamente in house. E questo è un grosso vantaggio, perché comunque per un utente finale anche avere 5 anni di garanzia su quello che è un Fritzbox o su quello che è un Fritz Repeater credo che sia sensazionale. Certo, non vuoi andare a sostituire il tuo modem o il tuo repeater ogni 2 o 3 anni. La rete che crei vuoi che sia stabile per un sacco di tempo. E queste sono caratteristiche in comune ai nostri prodotti, caratteristiche però molto molto importanti. Parlando di Wi-Fi 6 però, perché abbiamo parlato di Mesh, parlando di Wi-Fi 6, visto che anche i nostri prodotti che stiamo usando oggi sono Wi-Fi 6, come fanno la differenza i nostri prodotti in Wi-Fi 6? Allora, con il Wi-Fi 6, come dicevamo, il Mesh raggiunge il livello successivo perché, abbiamo detto, ci sono una miriade di dispositivi connessi e ciascuno di questi ha bisogno di performance eccezionali. Assolutamente. Con il Wi-Fi 6 andiamo ad aumentare quella che è la velocità dei dispositivi che andranno a connettersi, ma non parliamo solo di potenza, andiamo a parlare di un risparmio energetico. Quindi i nostri dispositivi batteria, mi viene da pensare ad esempio ad una videocamera di sorveglianza con batteria ricaricabile, riusciranno a durare di più. Fondamentale. Preoccupazione in meno. Sì, infatti. Poi abbiamo una minimizzazione delle interferenze per quelle zone metropolitane che oramai sono stracolme di rete Wi-Fi, sature, e pertanto il nostro cellulare magari fatica a connettersi oggi con una Wi-Fi 5. Con il Wi-Fi 6 questo sarà molto più semplice. Ed in più andiamo ad estendere quello che è il raggio di copertura tramite un potenziamento della rete 2.4, ossia quella che spesso e volentieri arriva veramente distante rispetto a dove è posizionato il modem, il repeater o il power line. Quella che usiamo magari per mandare il segnale anche in giardino. Assolutamente sì, o per andare a messaggiare dalla piscina. Fantastico, perché ce l'ha. Alessandro, tutto fantastico. A questo punto, vabbè, io lavoro in AVM, quindi in teoria so quali sono i vantaggi e non ho dubbi. Ma per chi avesse dei dubbi in merito, magari non so, delle esigenze aggiuntive, a chi può chiederle? In questo caso può chiederle direttamente alla nostra assistenza che è presente qui a Berlino e che lavora nel palazzo a fianco rispetto a quello dove stiamo registrando questi video. Assistenza che lavora fianco a fianco di progestisti, softwareisti, ingegneri, quindi che conosce pienamente il prodotto. La nostra assistenza è disponibile sia tramite il telefono, sia tramite posta elettronica o anche sui social media, Facebook o Twitter. Ed è disponibile a rispondere a qualsiasi domanda che dovessero avere il cliente, dalla gestione del parental control fino a come comprendere, come spegnere i led del repeater presente nella stanza dei bambini. Credo a questo punto che sia fantastico per i nostri clienti e di avere anche un supporto dedicato direttamente qua da Berlino. Siamo arrivati a conclusione di questo Freestalk. Alessandro, grazie innanzitutto e grazie a voi che ci avete seguito e ci vediamo al prossimo Freestalk. Ricordatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube e abbiamo anche Instagram, Facebook e Twitter, quindi potete seguirci tranquillamente anche lì. Che dire? Grazie, al prossimo episodio e cheers! Cheers!